Grazie a tutti. Studi musica, da quando hai iniziato? Iniziamo così. Ok, allora ho iniziato all'età di 9 anni e quindi studio praticamente da metà della mia vita, infatti ho fatto 18 anni la scorsa settimana. Un pochino insomma. Come ti senti ad essere già maggiorenne, responsabile delle tue azioni? Devo dire che pensavo cambiasse di più, magari ancora non me ne rendo conto, essendo passato poco tempo, però lo scoprirò a breve. Lo scopriremo solo vivendo, diciamo, la canzone. Allora, parlaci allora della tua carriera artistica, come hai iniziato? Hai iniziato così per gioco? Io ho iniziato casualmente, mi ritrovavo a Milazzo, avevo 8 anni circa, e mi sono cimentato a fare un concorso di canto, ma molto per gioco. E in giuria c'era anche il mio professore, Giuseppe Italiano, che saluto. Quella volta portai un amore così grande, diciamo che è un brano non indifferente, ecco, per avere comunque 8 anni. Infatti i miei comunque rimasero anche molto stupiti alla scelta. Cioè, una canzone molto impegnativa. Sì, certo. Poi soprattutto per una persona che comunque non aveva mai studiato. Quella volta, in quel festival, in quell'occasione arrivai secondo, e tra i componenti della giuria c'era anche appunto il mio professore, che mi propose di studiare canto, in quanto riteneva che comunque io avessi delle capacità da sviluppare, ovviamente. Perché, parliamoci chiaro, 8 anni, un bambino può avere magari una predisposizione, ma alla fine niente di più. Poi se non viene coltivata, naturalmente... La nasce e l'amore. Certo, e l'amore. È una cosa normale, certo, perché ce n'è tanta strada da fare, soprattutto per come hai iniziato. E adesso ti ritrovi anche a scrivere delle canzoni. Sì, ho iniziato circa due anni fa a scrivere, e devo dire grazie a un amico, Denis Pergolizzi, che per me è veramente un professionista e un fratello, in quanto comunque mi ha dato veramente la spinta per iniziare a scrivere. Infatti il primo brano l'ho scritto con lui, diciamo che è un brano molto, così va, molto provvisorio, infatti non lo considero tra i brani ineriti. Diciamo che è stato un brano che mi ha dato la spinta poi per migliorarmi sempre di più, per darmi lo stimolo a migliorare, fino ad arrivare ad avere circa una decina di inediti, di brani inediti, penso comunque di buon livello tutti. Naturalmente è stato lo slancio che ti ha lanciato con questa canzone. Il titolo della canzone? È Stupide Parole, è il brano che ho pubblicato su tutte le piattaforme. Naturalmente ho anche altri brani inediti da mostrare, e ancora sono, diciamo, in preparazione, sono tutti piano e voce ancora. Stai lavorando agli arrangiamenti. Qui la domanda nasce spontanea. Una canzone a cui sei legato? Brani inediti oppure... Quale vuoi? Inediti, non inediti, cover? Allora, scelgo di dirti un brano inedito, Ogni mia abitudine, il titolo è Ogni mia abitudine. Perchè, suppongo sia autobiografica? Sì, tutti i brani che scrivo sono autobiografici. Ok. Ogni mia abitudine è un brano a cui sono particolarmente legato, perché è un brano che ho scritto innanzitutto in un periodo non proprio rosseo della mia vita. A quest'età? Eh sì, diciamo che ho deciso, non mi trovavo bene con il mio gruppo di amici, e quindi, diciamo, ho deciso prima di sfogare questo malessere su un foglio di carta e poi, diciamo, anche... Di musicarla. Di musicarla e poi anche allontanarmi da queste persone, cioè passare ai fatti, effettivamente. È un brano al quale sono anche tanto legato, in quanto ho avuto occasione di produrla a Napoli con il maestro Luigi Mignalosa, che è stato anche autore di Mina, e che ringrazio veramente tanto per l'opportunità. È un brano che parla, appunto, di questo malessere interiore, del fatto di non sentirsi accettati dalla società, magari dal proprio gruppo di amici, e quindi, comunque, alla fine vale la pena, effettivamente, restare con queste persone se non ti fanno stare bene. Allontanarti non vale la pena, è una cosa naturale. Tu devi stare bene, prima con te stesso, poi con gli altri. Se non stai bene con te o con gli altri, è giusto allontanarsi e iniziare un percorso diverso. E tu hai iniziato il percorso della musica, dove, diciamo, sfoghi un po' sia il malessere e sia il benessere, perché la musica aiuta tantissimo. Certo, assolutamente. Io scrivo principalmente per stare bene con me stesso, perché è la mia più grande passione e voglio soprattutto che diventi un lavoro, a tutti gli effetti. Cioè, il mio obiettivo principale è quello. E quindi ce la metterò tutta. Diciamo che sia a scrivere, comunque a migliorare sempre di più a livello teorico musicale e nella preparazione dello strumento. Infatti io suono anche pianoforte da un paio di anni e anche violino in orchestra. Perciò, ecco, sei anche un musicista, oltre ad essere un cantautore. E parlaci della tua esperienza più bella che hai avuto fino a questo momento. Forse la preparazione al brano di ogni mia abitudine, proprio perché sono salito a Napoli, ho registrato in uno studio professionale, poi ho preparato anche il videoclip per presentarlo poi a Serremo Giovani, lo scorso anno. E anche se comunque non è andata, sono contentissimo dell'esperienza, proprio per il discorso di aver avuto a che fare con persone del settore, essermi cimentato in una cosa nuova, che per me comunque era totalmente nuova. Infatti diciamo che proprio da quando ho iniziato a scrivere sto iniziando ad avere le prime esperienze musicali soddisfacenti. Certo, allora, naturalmente avrei fatto dei corsi con degli artisti di un certo livello. Hai partecipato a degli stage sicuramente, facendo il Sanremo Giovani o Area Sanremo funziona così. Sì, diciamo che purtroppo non sono andato avanti, ecco. Però resta comunque la bella esperienza, perché comunque è un... come dire... È un'esperienza bellissima. Certo. È un'esperienza da fare. Un'esperienza da fare, un'esperienza soprattutto che ti forma tanto, sia a livello artistico, ma anche a livello personale. Certo. Ti fa crescere tantissimo, perché ti fa vivere nell'ambiente in cui vuoi vivere. Certo. E naturalmente ti fa conoscere anche tantissimi dettagli e tanti piccoli accorgimenti che magari all'esterno non vedevi o non vedi. I tuoi progetti futuri, quali sono? Allora, innanzitutto, migliorare sempre di più con la scrittura dei testi, perché penso che comunque già da qui a due anni, cioè se già in due anni ho fatto tanto, penso che in ottica futura possa andare soltanto a migliorare la situazione. Certo. E migliorarmi come artista, anche a livello strumentale, infatti tutto nasce piano e voce. e diciamo che il pianoforte è veramente la mia vita. Senza il pianoforte probabilmente non avrei iniziato a scrivere, senza il pianoforte non avrei iniziato a musicare i miei brani da solo, quindi devo tutto al pianoforte. Il pianoforte è il tuo compagno di vita. Sì. Naturalmente ti porta ad andare avanti e a migliorarti in questo percorso musicale e artistico. è personale soprattutto. La tua esperienza, hai già sicuramente partecipato a qualche talent, qualche concorso ganoro, uno che ti è rimasto più impresso? Anche questo fa parte dell'esperienza per immagazzinare il tuo bagaglio culturale, musicale. Diciamo che più che concorso in realtà un'esperienza formativa che io considero veramente tanto importante è avvenuta diciamo qualche settimana fa quando ho preso parte ad un musical con una compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e abbiamo messo in scena Cats il musical. Sì. E devo dire che mi ha aiutato tantissimo proprio per il discorso che effettivamente io mi rendo conto che essendo tanto abituato ad accompagnarmi piano e voce e tante volte magari posso peccare anche a livello interpretativo diciamo con il corpo e questa cosa devo dire che mi ha aiutato tanto proprio per il discorso che diciamo è un genere molto lontano dal mio da ciò che faccio perché io comunque faccio un genere che va sul pop no? Sì. quindi devo dire che a parte essermi messo in gioco insomma mi ha aiutato un sacco proprio a sbloccarmi con il corpo e a dialogare con il corpo con le altre persone e questa cosa devo dire che mi è servita tantissimo. Naturalmente è una cosa positiva perché Giova muoversi sul palco ci sono degli artisti che sono io li definisco degli animali da palcoscenico perché con il corpo oltre che con la voce trasmettono tanta ma tantissima emozione. Certo, io penso che l'obiettivo di un di un artista debba essere quello di mangiarsi il palco quando entra sul palco e voglio lavorare soprattutto per far sì che ciò accada. Sulla scenografia esatto sulla coreografia naturalmente pezzo per pezzo naturalmente cambia. Certo anche perché comunque magari ci sono persone da una voce bellissima ma effettivamente interpretativamente non ti danno niente non ti trasmettono tanto io voglio arrivare appunto a trasmettere sia vocalmente ma proprio sia a livello emotivo cioè quello deve essere l'obiettivo principale della musica o dell'arte in generale. Ma secondo me io sono del parere che un artista che sia diciamo esperto un cantante di un certo livello o un giovane cantautore un giovane che interprete o ti arriva o non ti arriva se sai trasmettere arrivi alla gente arriva il cuore della gente e questa è una cosa molto importante ci sono io sai in questo campo ormai ho fatto un po' il callo come si suol dire durante i talent anche con dei professionisti non cercano la voce ma cercano il personaggio che io penso a mio a mio parere è una cosa un po' banale perché il personaggio dice una cosa ma l'artista l'interprete della canzone che ti trasmette emozioni e tutt'altro no condivido a pieno proprio perché alle volte viene scelto il personaggio per fare audience ecco infatti ha discapito magari di persone che veramente ci mettono tutto e purtroppo diciamo è uno anche dei lati negativi della televisione però effettivamente penso che se una persona meriti davvero di stare su palcoscenici importanti penso che un giorno arriverà l'occasione se veramente l'artista lo merita sicuramente sicuramente io penso che tu veramente hai tanta stoffa anche perché sei giovane e noi noi di Anse TV perché questa è una produzione Anse TV il cocktail musicale la nostra emittente e le nostre emittenti tra l'altro cercano di puntare tutto sui giovani perché io ho sempre detto ho sempre sostenuto e sostengo ancora una volta che a Messina abbiamo tantissimi talenti e dobbiamo portarli avanti perché se non diamo la possibilità a voi di farvi conoscere rimanete lì dove siete nello scuro e allo scuro e dietro le quinte invece dovete andare avanti e noi il nostro intento è proprio questo qui so che hai un canale youtube dove poter ascoltare i tuoi pezzi eh sì ad oggi sono soltanto un brano scritto da me è una cover e sto lavorando per pubblicare altri lavori naturalmente il brano in edito è stupide parole intitolato stupide parole mentre la cover è di careless whisper di George Michael una canzone bellissima che a me piace tantissimo è una canzone che dico sempre ogni qual volta la metto in una trasmissione è da ascoltare con le cuffiette con gli occhi chiusi sdraiato su un divano e ascoltarsela gustarsela entrambi musicati da me piano e voce arrangiati da me ok noi ti ringraziamo Davide per essere stato con noi in questo speciale cocktail musicale le interviste e ti facciamo veramente un in bocca al lupo grandissimo la tua prossima canzone però voglio strapparti una promessa la prima trasmissione la prima radio la prima emittente su cui tu presenterai la tua nuova canzone sarà qui con noi nel cocktail musicale grazie mille per l'opportunità veramente grazie grazie a te grazie a tutti e arrivederci alla prossima edizione del cocktail musicale le interviste